Quando si parla dello scalo di Ormassano, del retroporto... Credo che il Piemonte possa tornare a essere al centro della logistica italiana, però per esserlo deve avere prima di tutto dei forti collegamenti col Mediterraneo. Solo per capire, il Genova Ventimiglia è un pezzo dell'adduzione dell'Unione Europea. La tratta nazionale di Torino-Lione può essere un altro pezzo in cui chiediamo più soldi. Assolutamente sì. Come loro lo chiedono dalla parte francese. Diciamo che noi potremo chiudere con parecchi centinaia di milioni di euro di più di investimenti nel nostro paese che ci consentirebbe di velocizzare le infrastrutture sul nord-ovest. Anche perché, torno a dire, noi abbiamo anche un problema che finché i terrati di merci mi vanno sugli stessi percorsi dei pendolari e mi dispiace prima che sul discorso dello shunt eccetera, io terrei tutte le possibilità e anti gli ampliamenti dopo perché il tema mio è che quando parliamo di alta capacità parliamo di una linea che non solo per sagomature e velocità sia merci ma anche per tempi di percorrenza, un treno ogni 4 minuti. Ora, è abbastanza evidente che se io metto un treno ogni 4 minuti non c'è spazio per treni pendolari o altro quindi io devo avere realizzato un percorso che, come posso dire, possa essere a utilizzo esclusivo o comunque più lo rende a utilizzo esclusivo più la linea mi rende economicamente efficace. Questo vale per la TAV, vale per terzo. Poi possiamo anche dire, arriviamo a dei compromessi, nella prima fase teniamo parte di tratta nazionale e poi nella seconda vedremo così su tutto, però io non vorrei che avessimo la Ferrari ma col motore della 500 cioè dobbiamo cercare di essere coerenti con le varie posizioni e torno a dire il tema è di aprirsi quindi la cabina di regia mi avviso ha funzionato molto tra Piemonte, Lombardia e Liguria perché è la prima volta che il Piemonte è uscito un po' dal suo guscio e si è aperto però il tema di sinergia è importantissimo e credo che su questo ci possa essere un rilancio di tutto il nord ovest però credo che su questo, torno a dire, bisogna che ci sia una coerenza fino in fondo detto questo, la cosa che dico è che è fondamentale sullo sviluppo di un paese, di un'area geografica come questo avere dialogo con tutti, non mi si può chiedere di non dialogare col sindaco di Torino non mi si può chiedere di non dialogare col presidente della regione Piemonte perché sono tutti espressione comunque degli abitanti di un territorio per cui se no, come posso dire, si rischia di mettere dei veti incrociati che in questo paese purtroppo portano dei danni inarrabili grazie grazie